Buonasera, sono Vincenzo Presutto, sono portavoce al Senato. Il Movimento 5 Stelle è nato appunto per portare i cittadini al centro dell'agenda politica nazionale. Nel 2013 il Movimento è entrato nel Parlamento come forza di opposizione. Il lavoro fatto in quella legislatura è stato un lavoro molto chiaro e preciso e circostanziato che è stato conosciuto appunto dai cittadini. Nel 2018 i cittadini hanno dato un mandato ancora più forte al Movimento 5 Stelle, hanno voluto che noi diventassimo forza di governo. E quindi proprio per poter realizzare la rivoluzione culturale per la quale i cittadini ci hanno voluto in quelle istituzioni. La rivoluzione culturale che prevedeva appunto i cittadini al centro di tutta l'attenzione politica nazionale. Ma che cosa è successo? Ecco questa rivoluzione in pratica si è rallentata, forse addirittura si è fermata. E noi che dovevamo in pratica cambiare la modalità politica dei partiti tradizionali, forse stiamo rischiando oggi di essere cambiati noi dai partiti politici tradizionali. E questo non deve accadere, però è accaduto. Qual è cosa? Cosa ha determinato questa situazione? Ecco nel 2013 quando siamo entrati in Parlamento eravamo entrati accompagnati dai cittadini. Questo rapporto non si è mai interrotto. Mentre invece questa cosa è in parte accaduta nel 2018, quando a un certo punto siamo stati concentrati soprattutto nel governare il Paese. È giusto, è normale, poteva capitare, però non doveva capitare che si creasse un'inclinatura, un'interruzione del rapporto con i cittadini. Perché i cittadini da noi vogliono sempre quella rivoluzione culturale che ho indicato prima. Ciò ha determinato una crisi di identità, un rallentamento, un disorientamento. E oggi con gli stati generali noi stiamo riprendendo in mano l'identità del Movimento 5 Stelle. Andiamo a recuperare quei valori fondamentali, fondanti, che hanno fatto del Movimento 5 Stelle la prima forza politica del Paese. Per dare anche un orientamento alla bussola del Movimento 5 Stelle. Dobbiamo avere un'identità più forte, basata su valori sicuramente positivi. Però è il momento di riconoscere gli errori, perché gli errori ne sono stati fatti tanti. E attraverso la valutazione di questi errori possiamo appunto migliorarci. L'identità passa però anche attraverso la definizione dell'agenda politica. In pratica le 5 Stelle, le 5 Stelle che hanno caratterizzato finora la nostra politica, non sono più sufficienti. Dobbiamo integrarle con i temi che un organismo politico di governo deve necessariamente affrontare. Quindi dobbiamo andare a delineare la posizione rispetto ad altri temi e gli obiettivi da raggiungere. Perché dobbiamo avere un'agenda politica che è in grado di soddisfare la domanda che varia, che arriva dal territorio e che deve essere appunto soddisfatta in maniera concreta. La governance. Il Movimento è una realtà variegata. Il capo politico, chiunque fosse stato, non poteva assolutamente sintetizzarla da solo. Occorre una governance allargata. Quindi servono più persone che possano sintetizzare e valorizzare le diverse anime del Movimento 5 Stelle per riprendere quella rivoluzione culturale in maniera più forte di prima. Questa governance però deve avere un compito ben preciso. Deve lavorare in modo specifico per soddisfare il bene dei cittadini e del nostro Paese. Quindi non deve avere assolutamente belleità egoistiche. Perché attraverso questa governance andiamo a ricostruire, a ricompattarci con i cittadini. Perché quel legame è per noi fondamentale ed è l'unico elemento che ci contraddistingue rispetto alle altre forze politiche. Le regole. Quindi ho detto identità, ho detto appunto parlare di temi, di governance. Le regole. Le regole che contraddistinguono il Movimento 5 Stelle sono regole vincenti. Quindi non capisco perché debbano essere cambiati soltanto perché qualcuno lo vorrebbe fare. Quindi quelle regole vanno sicuramente anche integrate con altre regole. E quindi ad esempio io esprimo la mia contrarietà appunto ad abolire il vincolo ai due mandati. Come del resto, quindi sia per i parlamentari europei, quelli nazionali, appunto i consiglieri regionali. Mentre per i consiglieri comunali abbiamo già approvato il mandato zero. Per quanto riguarda Rousseau, Rousseau è una struttura, una piattaforma di democrazia partecipativa molto importante. È cresciuta con il Movimento e il Movimento è cresciuto attraverso Rousseau. Io non credo che debba essere cambiata. Non bisogna avere paura di Rousseau, non bisogna controllarla. Però appunto, questo dico, chi non ha tradito la fiducia dei cittadini non ha paura di Rousseau e non teme certamente di essere licenziato con un clic. Però è importante che Rousseau vada a rivedere la trasparenza dei rapporti tra gli iscritti, soprattutto nella fase di selezione dei candidati e soprattutto nella fase di votazione. Per quanto riguarda le alleanze, io sono contrario ad alleanze strutturali o incondizionate. Il Movimento 5 Stelle andrà a ridefinire le proprie finalità, i propri valori, la propria agenda politica, la propria governance, avendo come unico principale scopo la tutela degli interessi dei cittadini. Le altre forze politiche che hanno queste stesse caratteristiche, allora con quelle forze politiche potremo valutare anche degli accordi programmatici, ma questi accordi programmatici per raggiungere degli obiettivi condivisi dovranno essere votati dagli iscritti del Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti.